Ciao a tutti, oggi giocherò la partita Milan contro Lazio. Ho scelto il Milan e spero che farò una buona partita. Andiamo! Non ho cambiato nulla sulla squadra, neanche il modulo. Ah, troppo debole! Bravo! Oh! Fuori! Buon avventura! Occhio all'uno contro uno! Lulic La Lazio quest'anno sta facendo molto bene. Il Milan però ha dei problemi. Palla riconsegnata agli avversari. Vai! Le! Ruba bene palla all'avversario. Melinkovic-Savic. Palla che diventa rosso-nera. Borrucci. Bravo! Suso. Taglio. Tiro. Wow! Troppo fuori. Troppo fuori. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire. No. Si ripartirà dunque con il calcio di punizione contro il Milan. Ma che spettacolare! Ho sbagliato completamente. Eh! Vai! Vai! Oh! Ho! 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 qua l'aria. Ho! fatto secco. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1 a 0. C'è spazio per andare. Troppo dentro. motivo A vero". Un intervento comodo del portiere. Recupera il pallone con un intervento facile. Wow! Non là! Ci sarà rimesso datrale per il Milan da buona posizione. Borini. Check Buonaventura. Bravo! Eh! Era troppo difficile là Ho ho! Dai Kalinic Bravo! Eeeh sei troppo lento! Penalty! Stavo per girarmi alla sinistra e lui ha fatto il tackling e mi ha colpito al piede Speriamo bene per il penalty perché non gli faccio molto bene Ok! Meno male! E abbiamo pareggiato! Un regalo dalla Lazio Siamo di nuovo in parità Grazie al gol dell'1-1 Vai vai! Un ballone Il pallone Bravo! Vai! Bravo! Vai! Corri maledetto! Corri maledetto! Corri! Corri maledetto! E' nostra! Di nuovo Corri maledetto! 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 Facciamo una sostituzione qua, ho messo André Silva al posto di Borini, bravo. Ok, lascia la, lascia la, lascia la maledetta, ah, fai il buon corso, che ha fatto lui, è buono, è buono, mamma mia, no, 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 non era buono questo per il cross, No, bravo, bravo, girati Kalinic, mamma mia, come sei lento. Abate, un'ottima rete di passaggio, Suso. Rette, ha ha, bravo Suso. E abbiamo ribaltato il risultato finora. Eh sì. Un derby a San Siro. Uh, bravo. Vai, vai, non fermate. Era un po' forte, un pochettino forte. Mi sembra che siamo entrati meglio al secondo tempo, finora. Un'ottima serie di passaggio. Occhio alla botta. Ok. Troppo in avanti. Bravo. Vai, vai. Tiro. Ua, che cavolo. Ecco il cambio per provare a rimettere almeno in parità la gara. Oh. Butta la via da lì. Questo è il dato sul possesso palla. Conferma l'equilibrio che si è visto in campo. Nessuna delle due squadre sembra riuscire a prevalere nettamente sull'altro, almeno finora. Luis Alberto. Supera facilmente il difensore. Ah! Eh, 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 bravo dalla Roma. Sventa la minaccia. Nuova istituzione. Sostituzione potrebbe dare la scossa necessaria per cercare il gol del pareggio, Pierre. Iiii. Mamma mia. Eh. Due reti hanno fatto dal corner. Cavolo. C'è davvero spettacolare, meno per i tifosi neutrali. Due a due il risultato. Ci sono metri a disposizione. Spezzano senza difficoltà il tichitac avversario. La quale tichitacca. Due passaggi ho fatto. Bravo. Riccardo Rodríguez. Cerca il sossegno dei compagni. Ma! Non si passa a prendere. No! Luis Alberto. Se lo lascia sfuggire. Verso il duello di fisico e di attenzione. Oh! Bele. Che razza di passaggio era questo? Mamma mia. Trova i compagni. Lige con trazza e recupera il pallone. Bravo. Ah! Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo. Bastos. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero. Oh! Oh! ed è finita peccato 2 a 2 abbiamo preso due reti dal calcio d'angolo vabbè succede ci vediamo al prossimo video ciao